cinema meno uno alla conclusione del torino film festival e questa sera sarà anche festa ma sentiamo nino battaglia resterà nella memoria del festival sandra milo per la prima mondiale di otto e mezzo di fellini restaurato lei nel film è l'amante del regista in crisi di ispirazione ed è stata la donna dei sogni cinematografici del maestro contenta sandra milo che il ricordo di fellini non suscita tristezza ma gioia e che a ricordarlo siano i giovani e un festival a loro dedicato il fatto che fosse un grande sognatore e che ha aiutato a noi anche a sognare no a conservare ad amare i nostri sogni e quindi è un po nel cuore di tutti ed è bellissimo che sia anche nel cuore dei giovani il regista milanese maurizio zaccaro da oltre 30 anni attivo tra cinema e tv sta terminando il film ad elante petroleros in ecuador lo sfruttamento petrolifero di terre dell'amazzonia un parco finora a protetto sotto tutela da una legge che viene ora cancellata e zaccaro riporta il pensiero di un ministro dell'equador e lui dice pensare di estrarre il petrolio da qualsiasi non solo da l'olio e osunima da qualsiasi territorio senza creare danni ambientali come dire che dracola improvvisamente è diventato vegetariano e che a dracola si può affidare la banca del sangue senza avere nessun problema ci porta in calabria il documentario rosarno la cittadina simbolo dell'immigrazione nel sud teatro alcuni anni fa di una strage di immigrati la regista greta de lazaris racconta la loro condizione la raccolta delle arance sotto sfruttamento in miseria estrema drammi umani che toccano anche i cittadini di rosarno chi vive in italia da sempre chi ci è nato si ritrova a vivere in questa città senza speranza di futuro almeno di andare via e i migranti che arrivano che non hanno più niente arrivano in una città che non ha niente da darli ancora a cinema due registi torinesi davide mazzocco e stefano rogliatti hanno vinto con benvenuto mister zimmerman il premio per il miglior cortometraggio al festival internazionale tutti nello stesso piatto di trento il video era stato girato a barolo unica data italiana del tour 2012 di bob dylan ed è stato premiato si legge nella motivazione per l'intuizione narrativa il concerto infatti era stato vietato alle telecamere è stato raccontato solo con le voci e gli sguardi del pubblico